I saldi continueranno fino alla fine di febbraio ma sappiamo bene che le cose più belle, richieste e della nostra misura stanno, o sono, per terminare A livello di sneakers la scelta è ampia, ed anche comprarne di nuove pur senza una reale necessità immediata, può rivelarsi un'idea vincente Total white o colorate, l'importante è variare. Anche per i bracciali cambiano le tendenze ma una scarpa da ginnastica e meglio da passeggio, quando è basic e sportiva al punto giusto difficilmente vedrà un crollo di gradimento dall'oggi al domani Questo lascia ben sperare a chi ha la voglia di trovare e comprare quel modello specifico senza demordere Non andranno ovviamente messe con vestaglia e camicia da notte, ma allo stesso tempo bisognerebbe evitarle con outfit in paillette come fin troppe volte vediamo nei social Sneakers in saldo. Ecco perché è un'ottima idea comprarle e quali scegliere vogliamo in Francia con le sneakers bianche Lauren di Chloe con strappo che sono un evidente passepartout Ne hanno realizzate di simili anche altri marchi, ma bisogna riconoscere che ma qualità di questo brand abbia un rapporto qualità-prezzo non indifferente Si trovano scontate del 35% a 336 euro su